Il trasporto urbano viaggia con una marcia in più. Da oggi è possibile acquistare biglietti e organizzare percorsi, anche in termodani, grazie all'app Appinova. L'importante novità è stata presentata questa mattina e non la consigliare dall'assessore Attilio D'Andrea, con i responsabili del settore trasporti, l'ingegnere Nino Di Bitonto e Gian Branco Zaccannini, che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Il bilietto acquistato sarà valido con QR code, che già da domani sarà sugli autobus del servizio urbano. Un servizio al passo con i tempi per offrire servizi efficienti a cittadini e turisti, commentano da Palazzo San Francesco. Noi stiamo portandoci al passo di quelle che sono le città d'Italia che puntano sul turismo. Quindi cerchiamo di dare un servizio completo a quelli che sono i cittadini e il turismo. Oggi è un passo importante perché siamo passati, con la digitalizzazione dei biglietti, chiaramente, all'acquisto dei biglietti per l'autobus direttamente sul proprio cellulare con app dedicata o tramite sito internet. Questo grazie al fatto che abbiamo anche un servizio adesso di geolocalizzazione su Google, perché un mese fa, io l'avevo già detto quando mi siamo appena insediato, quindi è un percorso che si sta man mano realizzando. Oggi sappiamo, come in tantissime città d'Italia, in base al percorso che si sceglie e il mezzo di trasporto che si vuole utilizzare, in questo caso appunto l'autobus, dove passa l'autobus, la fermata e i tempi di percorrenza. E quindi siamo allineati con quel tipo di discorso. Sarviso dei trasporti che sappiamo abbiamo ereditato in condizioni in grossa difficoltà, sappiamo tutti, ad oggi noi vedete già un autobus nuovo che circola, altri due sono in arrivo, ma noi per parlare di trasporto oggi bisogna parlare di intermodalità, perché noi non possiamo parlare di turismo se al turista non gli diamo gli strumenti per muoversi. Quindi perché intermodalità? Perché oggi se sul sito di Trenitalia si può comprare il biglietto del treno insieme a quello dell'autobus e sul Mona è sul sito di Trenitalia. C'è la possibilità di noleggiare con lo sharing una bici o un monopattino quando si arriva alla stazione di potersi muovere, si può prendere l'autobus. Sappiamo benissimo che il servizio taxi tornerà sul Mona, anche questo. Si può parcheggiare con un'applicazione che sappiamo me Cicero in questo momento, ma ce ne sono tante, noi qui abbiamo scelto appunto questo servizio, ma diciamo è un servizio, quello che bisogna dire è che però oggi noi abbiamo tanti servizi, tante applicazioni diverse, ma la finalità è quella di mettere a sistema tutto, perché sia per il cittadino che per il turista che viene a Sul Mona deve essere facilitata al massimo quella che è la possibilità di scelta. Su questi tipi di applicazioni chiaramente c'è poi la possibilità anche di poter inserire quelle che sono le offerte commerciali, i biglietti del teatro o quelli che sono degli spettacoli, ma anche su quello appunto, ecco perché è importante che si interfacciano la parte tecnica delle diverse applicazioni e servizi che stiamo mettendo qui in città e io dico che stiamo pian piano portando Sul Mona al passo delle città più importanti d'Italia, perché ritengo che Sul Mona debba assolutamente essere considerata una delle città più importanti d'Italia. L'applicazione permette in particolare di consultare le fermate geolocalizzate da Google Maps, informare sui tempi di percorrenza del proprio itinerario, coordinare le coincidenze tra autobus e treni.